Massimo Castagnari, il Civitavecchia continua a stupire, ha ottenuto domenica la decima vittoria in questo campionato di eccellenza, di chi è il merito? Il merito è di tutti, di tutti quelli che credono in quello che stiamo facendo. Quindi da tutto, come ho detto già in un altro luogo, tutto è cominciato quando la regina di Ivano Iacomelli ha permesso a un direttivo formato da Ugo Fronti, da Archimede Pucci, da Ugo Amicizia, dal nostro direttore sportivo Bernardo Iannicelli, dai nostri massaggiatori Enrico, dai nostri magazzinieri Oliviero e Il Nigno, che sono due persone che seguono la squadra e stanno sempre a cena con la squadra. E poi arriva piano piano allo staff, all'allenatore, a Nicola Francese, è un gruppo di giocatori che ha sposato totalmente quello che era il progetto Civitavecchia. Valorizzare quel poco che c'era e farlo diventare importante. Magari questi ragazzi stanno facendo più del dovuto e sicuramente va dato merito a loro. Stanno facendo qualcosa di straordinario e sicuramente se in futuro si dovrà aggiungere qualcosa a questo gruppo, è soltanto chi crede in quello che stiamo facendo e nella maglia che veste. Quanto sono importanti i giovani che avete in squadra e si aspettava che fossero già pronti per la prima squadra? Ieri e domenica addirittura avevate tutta la panchina under. Ma io dico che questi giovani, diciamo che almeno al momento non è che ci sono giovani stratosferici, che possano fare altre categorie. Io dico che questi ragazzi sono ragazzi umili che si sono messi a disposizione e che praticamente hanno avuto la costanza di apprendere quello che erano le direttive date dall'allenatore. Si mettono a disposizione, sono come carta assorbente, seguono non soltanto quello che dice l'allenatore ma anche quello che dicono i grandi, stanno migliorando tanto. E quindi io dico sempre che se il giovane funziona è perché è grande all'interno della squadra, sta facendo bene. Quindi penso che in questo momento, se noi ci avremo la fortuna in seguito di fare qualche altra vittoria e di salvarci, forse vedremo questi giovani con più spensieratezza magari dare prove ancora migliori di quelle che stanno dando oggi. L'obiettivo rimane comunque la salvezza o qualcosa in più? Subito la salvezza, non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora di raggiungere quel traguardo. C'è qualcuno che ha detto che magari arrivare già a fare un play-out a inizio campionato per noi era un successo. Farlo con qualche giornata anticipo io penso che sarebbe in impresa.